L'Italia ha promosso questa conferenza perché vuole offrire un contributo nel quadro delle Nazioni Unite al processo di stabilizzazione della Libia. Saranno qui presenti i principali protagonisti dello scenario libico e saranno altresì presenti 10 tra capi di Stato e di Governo, altri 20 Paesi saranno rappresentati dai ministri degli esteri. Saranno inoltre qui presenti anche i principali organismi internazionali. Tutto questo perché cessino gli scontri armati e la Libia sia avviata a un percorso di stabilizzazione. Lo facciamo per il popolo libico e perché vogliamo che il popolo libico possa decidere in via democratica del proprio futuro.